C'erano anche le salme di due bambini di circa un mese fra i migranti soccorsi dalla motovedetta della guardia costiera a largo di Lampedusa. I piccoli sono morti durante la traversata, cominciata alle 4 di domenica, dalla Tunisia verso l'Italia. I neonati sono morti perché erano sottopeso. Secondo gli stessi genitori, infatti, i bambini erano in cura in Tunisia proprio perché terribilmente sottopeso. Probabilmente quest'ultimi speravano che in Italia i piccoli sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure. Ed è per questa ragione che mamma e papà sono partiti lo stesso, ma i due gemellini non sono riusciti purtroppo ad arrivare a Lampedusa. Il decesso, secondo quanto è stato ricostruito dagli stessi genitori e dagli altri migranti stipati sul barcone, è avvenuto alle 3 della scorsa notte. Le salme dei due gemellini di un mese, originari della Guinea, sono state ritrovate sopra un barcone di 6 metri, partito dalla Tunisia, a bordo del quale c'erano altre 58 persone, di cui 28 uomini, 17 donne e 13 minori. È l'ennesima tragedia del mare in pochi giorni, dopo i quattro cadavere di migranti recuperati ieri, quelli di due bambini di poco più di un anno, morti ustionati a causa dell'incendio sviluppatosi sul barchino sul quale viaggiavano, e di altri due tunisini recuperati morti nelle settimane passate.